Un'ottima edizione dei matti per il calcio, una delle pagine più belle dell'organizzazione sportiva, della proposta sportiva della WISP perché qui scende in campo la gioia e la bellezza del gioco, la gioia e la bellezza del sentirsi cittadini e persone a pieno titolo, contro lo stigma, contro ogni pregiudizio, ma semplicemente mettendoci la passione, anche la tecnica, anche il sano agonismo, ma per essere a pieno titolo persone che all'interno della comunità non solo sono accettate ma diventano protagoniste attraverso lo sport per tutti. Dario, tu sei un fondatore di Realmente, parla forte, grazie. Il fondatore? Sì, sono cinque anni, sei anni che seguo questi ragazzi, mi ha convolto un'amica dottoressa, ha detto vieni a darci una mano, sono andato e sono rimasto, sono sei anni ormai che li seguo questi ragazzi e ci divertiamo così, mi diverto, sono pensione perciò... grazie Dario, grazie Marzia. Ciao! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te! Grazie a te!